A Torre del Greco sono 43 le nuove guarigioni registrate ieri, di cui 42 dall'isolamento domiciliare e uno dal regime ospedaliero. Certificati anche 38 casi di positività al Covid-19, di cui uno in regime ospedaliero e 37 in isolamento domiciliare. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Comunicati ulteriori 4 decessi di soggetti classe 1930, 1939, 1940 e 1946. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. Sono 306 gli attuali positivi, di cui 281 in isolamento domiciliare e 25 ricoverati, 2.396 guariti e 79 deceduti. Sono 40 i cittadini di Castellamare di Stabia risultati positivi al Covid-19 nel periodo dall'8 all'11 gennaio, su un totale di 351 tamponi lavorati. Registrate nello stesso periodo anche 21 guarigioni. Sale il numero di persone che hanno contratto il Covid-19 a Castellammare. Sono 2.989 i contagiati totali dall'inizio della pandemia. A San Giorgio a Cremano il sindaco Giorgio Zinno comunica 5 nuovi positivi registrati negli ultimi tre giorni. Sono 55 cittadini attualmente positivi nella città.